Non si arresta l'emergenza a caldo e la Croce Rossa di Arezzo apre le sue porte agli anziani, indubbiamente coloro che soffrono maggiormente queste temperature elevate. Anche quest'anno purtroppo il clima non ci accompagna e non ci facilita e quindi noi abbiamo questo locale che come sentite è fresco con aria naturale, volendoci poi l'aria condizionata anche e che noi mettiamo a disposizione quelle persone che avendo abitazioni calde, ecco dalla mattina 8 e mezzo 9 fino alla sera potrebbero anche venire qui, passare delle ore dove potrebbero anche vedere un filmettino, un po' di televisione, c'è un calcio balilla, cioè giocare a carte, ecco creare un momento di incontro in uno stato di benessere, questo è molto importante quindi noi ci mettiamo a disposizione. È chiaro che noi non andiamo a prenderle a casa se non casi particolari da valutare volta a volta, però insomma si può vedere di risolvere il problema. Dunque tutti gli anziani in cerca di refrigerio in queste giornate torride potranno trovare per qualche ora un po' di fresco e di sollievo alla Croce Rossa in via Raffaello Sanzio ad Arezzo. Come dicono i medici, sia i bambini che gli anziani sono le categorie più a rischio con questi grandi caldi per patologie varie che possono avere soprattutto dei fattori circolatori e quant'altro. E quindi ritengo che collaborare per risolvere o attenuare i loro problemi, questo sia molto importante.